Election Day del Partito Democratico Lombardo, domenica 18 novembre. Gli iscritti eleggeranno direttivi e segretari di circolo, oltre che segretario e assemblea provinciali, mentre tutti gli elettori potranno votare con le elezioni primarie il nuovo segretario regionale e la relativa assemblea. In Lombardia i candidati sono Vinicio Peluffo e Eugenio Comincini. Sfida 2 anche nel PD Comasco. Per la segreteria provinciale corrono Federico Broggio e Filippo Di Gregorio. E alle primarie, per il segretario regionale che tutti i cittadini possono partecipare, spiega Angelo Orsenigo, segretario provinciale uscente, invitiamo i nostri elettori e simpatizzanti a recarsi alle urne aperte nei comuni della provincia, secondo un orario che varia dalle 8 alle 13 e dalle 8 alle 20, a seconda della località. Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano residenti in Lombardia. Si vota tracciando un segno sul nome del candidato prescelto. In questo modo si elegge il segretario regionale e si sostiene la lista per l'assemblea regionale che lo appoggia. È necessario recarsi al seggio muniti del documento d'identità e della tessera elettorale. È previsto il versamento del contributo di 2 euro destinato alle spese organizzative. Per trovare il proprio seggio e gli orari di apertura è possibile consultare il sito www.pdlombardia.it oppure www.partitodemocratico.co.it www.partitodemocratico.it www.partitodemocratico.it www.partitodemocratico.it